Prima di avviare il video, un gentile promemoria, assicurati di premere il tasto Iscriviti e di lasciare un Mi piace. Grazie, ultimissime, ricovero d'urgenza per la celebre VIP del Grande Fratello. I fan preoccupati sono invitati a sintonizzarsi sul nostro canale. Nel video, la protagonista rassicura i seguaci dopo una notte di terrore a causa di dolori al petto. Nonostante l'esperienza, la VIP, ancora amata dai fan, ha affrontato la situazione con ironia. I medici escludono gravi problemi, ma consigliano ulteriori accertamenti cardiologici. La vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani è stata dimessa, ma decide di prenotare ulteriori controlli per garantire la sua salute. Un monito sull'importanza di ascoltare il proprio corpo. Lasciate un commento e seguiteci per gli aggiornamenti. Grazie di cuore, a presto con un nuovo video.